Era una normale giornata di lavoro per la dottoressa e l'infermiera dell'unità USCA aggredite verbalmente ieri pomeriggio intorno alle 18.30 da alcune persone a Carrara di Fano. Le due giovani donne, di cui una appena laureata, avevano visitato un'anziana con Covid-19 residenti in un condominio ed erano in attesa dell'arrivo del 118 da loro allertato per ricoverare la donna quando due soggetti si sono avvicinati a loro ed hanno cominciato a domandare in modo insistente informazioni riservate sulla paziente. La situazione è poi degenerata. Sono avvicinate delle persone, prima un paio chiedendo chi era, perché eravate lì, perché siete lì, cosa fate e chi è che sta male. Chiaramente loro non hanno risposto perché non possono rispondere, giustamente hanno fatto bene e questi hanno insistito parecchio, in maniera quasi un po' ossessionante dicono loro e poi visto la loro che sono chiuse dentro, hanno chiuso anche la macchina dentro e si sono andati via i primi due. Poi in seguito sono arrivate altre due persone e queste sono dimostrate un pochettino più aggressive. I due, probabilmente residenti nella stessa palazzina della paziente visitata, dopo aver chiesto più volte ed insistentemente informazioni riservate sulle condizioni di salute della donna con la scusa di avere soggetti a rischio ed anziani in casa, all'ennesimo diniego della dottoressa e dell'infermiera le hanno aggredite verbalmente per poi, prima di andarsene, dare un calcio all'auto in cui si erano rinchiuse le due donne che, spaventate, hanno allertato i carabinieri. E' arrivato i carabinieri e nel frattempo è ritornata quest'altra persona e quindi è stata identificata dai carabinieri e nel frattempo continuavano sempre delle urla dall'androne del coso chiedendo cosa fate, andate via, cosa fate lì. Quindi è stata una serata piuttosto movimentata e spiacevole. Anche la dottoressa e l'infermiera comunque sono più che spaventate, deluse, amareggiate perché si tratta comunque sia di combattere oltre che contro il Covid, contro la maleducazione. Esatto, infatti loro sono molto amareggiate di questo, infatti mi hanno detto di non voler comparire, di non voler dare nessuna testimonianza di questo perché sono abbastanza veramente amareggiate e deluse a tutto questo. E io dico in più che tutta questa energia che hanno messo questi signori nel volere sapere queste cose, tutta la rabbia che c'è in giro deve essere rivolta più che altro al comportamento di chi non si comporta bene, di chi non rispetta le distanze, di chi non porta le mascherine, di chi sta assieme senza doverci fare. E purtroppo questa cosa ha buttato un'ombra nel nostro lavoro che ci dispiace perché non se lo merita, non ce lo meritiamo. E invece di riconoscere, di osannarli e di elogiarli, avere queste aggressioni è veramente una cosa brutta.